Team System Per chiudere la disponibilità di prenotazione di una singola stanza in un determinato periodo possiamo utilizzare la funzionalità blocco, raggiungibile direttamente dall'agenda. Cliccando su Blocco nella schermata successiva possiamo impostare la data di inizio e fine blocco. A fianco dal menu a tendina possiamo scegliere quale risorsa andare ad applicare il blocco della disponibilità. In basso nel nome possiamo inserire una descrizione, a piacere in questo caso, Manutenzione straordinaria. Cliccando su Salvablocco possiamo notare che subito sul nostro planning abbiamo la nostra manutenzione. Da questo momento in poi quella risorsa non sarà più prenotabile. Grazie. 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 Grazie.